Conta tanto, però fino a un certo punto, credo che la vera educazione la debbano dare i genitori. Parlo in prima persona perché è una scuola calcio e credo noi possiamo arrivare fino a un certo punto. Poi l'educazione vera e propria è giusto che la diano i genitori e noi fare un percorso assieme a loro è importante.